Professore Saviano, si è discusso stamane del futuro degli impianti sportivi ad Avellino, non solo il Campoconi, ma una programmazione seria dettagliata per il futuro appunto dell'impiantistica sportiva nella nostra Erpina. Sì, credo che sia una cosa importante perché oramai lo sport fa parte a pieno dito della società civile, una volta tanti anni fa pochi si facevano attività sportiva, lo sport rappresenta una ricchezza di 33 miliardi di euro all'anno, 4-5 finanziari e abbiamo il dovere al di là del fatto salutistico anche come fatto economico di intervenire e di rendere agibili tutte le strutture della città, ma non basta questo, non basta intervenire con finanziamenti per migliorare. Bisogna farle vivere attraverso la formazione di personale, attraverso la presenza di tecnici negli impianti sportivi e anche lasciare la libertà a chi si vuole allenare liberamente di lasciarli allenare liberamente. Sessore, ritornando a sport ed ambiente, ha parlato di una progettualità soprattutto per quanto riguarda il fenestrello? Sì, allora l'idea del Presidente Saviano è un'idea che merita attenzione, cioè quella di utilizzare il torrente fenestrelle per attività di canottaggio. Per fare questa operazione è necessario fare dei lavori, ma non è questo il punto che attualmente limita questa progettualità. Attualmente la limitazione della progettualità è dovuta al fatto che quella zona è a valle della confluenza con il Rio San Francesco e nel Rio San Francesco vengono ancora oggi sversati direttamente gli scarichi fognari di parecchi edifici che si trovano sulla via Tagliamento. Il progetto approvato in giunta qualche mese fa, è un progetto di 4 milioni e mezzo di euro, prevede il risanamento del Rio San Francesco, il convogliamento di questi scarichi in nuove fognature ed è una progettualità che abbiamo sbloccato dopo 10 anni, era dal 2008 che c'era questo finanziamento e non si riusciva a sbloccare questa cosa. Non per assumermi meriti che non ho, però siamo riusciti a sbloccare questa cosa. Quindi a valle del risanamento del Rio San Francesco possiamo pensare anche a sfruttare il fenestrelle in chiave turistica.